In questi giorni è chiaro quanto è cruciale il ruolo degli operatori sanitari, è estremamente importante in questa fase pensare anche a loro, che non è solo la protezione ma è anche il supporto psicologico a chi sta fronteggiando ogni giorno questa emergenza senza pausa. La Croce Rossa Italiana ha attivato, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, un numero per garantire supporto psicologico, per garantire assistenza a tutte queste persone. Sarà possibile per ogni operatore sanitario che vuole parlare, confrontarsi con uno degli psicologi della Croce Rossa Italiana, chiamare lo 065510, digitare l'opzione 5 e parlare direttamente senza filtri con uno psicologo che è lì appunto per garantire l'assistenza. Tutti gli operatori sanitari sono fortemente sotto stress e quindi è importante anche dare loro uno spazio nel quale possano confrontarsi ed affrontare queste situazioni emotive. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!